Storie di Serie A, su Radio Serie A con RDS Buongiorno da Alessandro Alciato, buon ascolto e buona visione Mettetevi comodi perché oggi Storie di Serie A diventa Storie del Maestro perché il nostro ospite è Andrea Pirlo, grazie Andrea Ciao Una cosa non l'ho mai capita in realtà, Maestro è un soprannome che ti piace oppure non tanto? Ma sì, negli ultimi anni poi c'è stato questo soprannome anche in giro per il mondo comunque è una cosa che mi ha sempre fatto piacere Però pensando alla tua carriera, io volevo chiederti questo legandomi anche al soprannome maestro cioè tu non hai mai avuto una carriera normale o un giudizio normale cioè tu dovevi far sempre qualcosa di più perché prima eri il predestinato poi sei diventato Andrea Pirlo, poi sei diventato il maestro cioè quanto è stato difficile però gestire una situazione del genere già da bambino, già da ragazzino? Ma no, difficile no, sempre vissuto con tante aspettative fin da piccolo perché magari quando ero molto giovane ero quello più bravo poi quando sono cresciuto comunque si aspettava che facessi qualcosa di importante pian piano poi ho fatto quello che ho fatto e comunque ho sempre dovuto dimostrare sul campo partito al mio valore che se no erano sempre pronti lì con il mirino a giudicarmi però faceva parte ormai della mia carriera e non ci ho più fatto caso Questo vi dico però, cioè per un bambino non credo sia facile No, non è facile però a quell'età non ci pensi, pensi solo a giocare, a divertirti, a cercare di raggiungere i tuoi sogni fortunatamente sono riuscito ad arrivare fino in fondo e quindi non mi è pesato niente Oggi, forse anche con una certa facilità, quando un giovane esordisce in Serie A o fa vedere qualcosa dicono è un predestinato, tu ne vedi per davvero di prendere destinati in giro? C'è un predestinato ai tuoi occhi? Ma quelli bravi li vedi subito, ce ne sono parecchi che magari esordiscono giovani poi magari dopo qualche anno si perdono un po' poi ritornano ognuno deve avere il suo tempo, deve fare le proprie esperienze poi ci sono quelli bravi che poi partono e arrivano subito come è stato Donna Rumma, come ne sono stati tanti altri che hanno fatto una carriera da giovanissimi e sono arrivati subito ad essere protagonisti però adesso non è facile perché il calcio è cambiato quando sei giovane comunque non ti danno questa grande chance di poterti mettere subito a livello degli altri però se uno è bravo è giusto che giochi Chi sbaglia però da questo punto di vista nel non dare chance ai giovani? Sbaglia il movimento calcistico soprattutto italiano perché se tu guardi all'estero, Inghilterra, Francia, Spagna quando uno è bravo che abbia 16, 17, 18 lo buttano dentro qua c'è sempre il rischio, ma si brucia, dobbiamo aspettarlo invece secondo me quando uno ha le capacità e gioca bene a calcio è giusto buttarlo dentro Come si cambia una mentalità del genere? Provando a farlo, solo che c'è sempre questa paura però è sempre rischioso perché poi comunque devi sempre sentire qua in Italia il giudizio di tutti ci sono sempre tante critiche da una parte all'altra quindi si cerca un po' di proteggere il giocatore però arrivi a un certo punto dove devi anche lasciarlo correre Tu da allenatore sei coraggioso in questo senso? Ti senti coraggioso? Io sì, io se vedo uno che ha potenzialità non guardo la carta identità se uno ha 16 o 30 per me è la stessa cosa, è importante che faccia vedere le proprie attitudini e le proprie qualità Forse oggi il vero predestinato è Bellingham Da un po' che è predestinato Ma tu te lo aspettavi così forte subito al Real Madrid perché giocare al Borussia è difficile e giocare al Real Madrid è molto più difficile invece sembra nato lì Sì no, è nato per giocare a calcio poi fisicamente è un animale quindi nel calcio moderno questo serve molto l'ho dimostrato quando è iniziato Neil Birmingham che poi è andato a Dortmund ha bruciato le tappe in nazionale uguale quando uno è predestinato come abbiamo detto può giocare in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi squadra e a qualsiasi livello quindi lui è nato così è giusto che faccia questa carriera Che coppia è Bellingham-Mancelotti? Una bella coppia, un giovane di grandissime prospettive, un allenatore di grande esperienza, di qualità umane fantastiche quindi è un maestro che spero possa allenare per tanti anni Bello il maestro che dice di un altro che è il maestro Vabbè lui è stato un maestro per me e per tanti della mia generazione al Milan abbiamo vissuto anni fantastici quindi sarà sempre una persona importante nella mia vita Tu nel corso della tua carriera, soprattutto all'inizio, quanto hai dovuto combattere contro la tua bravura? Perché dava fastidio, mi ricordo ad esempio che raccontavi che tuo papà doveva guardare le partite non in mezzo agli altri ma più in disparte perché c'erano insulti sia dagli avversari sia dai genitori dei tuoi compagni Sì, a quell'età lì sono tanti genitori che vedono i figli come i Ronaldo, i Messi quindi magari se vedono qualcun altro che è un po' più bravo, un po' di invidia c'è perché vorrebbero vedere tutti i loro figli arrivare a giocare in Serie A oppure arrivare comunque a giocare in prima squadra Il mio papà si andava dall'altra parte perché non gli piaceva tutte queste chiacchiere che circolavano vicino a me quindi preferiva vederla da un'altra parte guardando solo la partita Cosa ti dicevano? Cioè cosa dicevano su di te? Ma no, classiche cose quando parlano di un giocatore, di un ragazzo anche lì nella città magari uscivano i primi articoli sui giornali quindi magari qualcuno era invidioso però fa parte della vita, succederà anche adesso su qualsiasi campo di giovani Sì, però a te è successo qualcosa che a tanti altri non succede cioè i compagni di squadra che non ti passavano il pallone Ma anche lì sono percorsi che fai e succede che magari per farsi vedere loro, per andare avanti loro vogliono dimostrare il loro valore, magari sanno che sei un po' più bravo e quindi cercano di isolarti per mettersi in evidenza però ormai non ci faccio più caso, ho avuto questa esperienza però fortunatamente è passata C'è un consiglio che ti senti dare ai genitori dei giovani di oggi? di stare a casa, di non andare addirittura a fare casino perché vedo anche adesso ogni tanto quando sono all'allenamento l'altra mattina che hanno sospeso una partita di ragazzi perché hanno litigato dei genitori quindi lasciarli tranquilli, si devono divertire poi se sono bravi e escono da soli non c'è bisogno che il genitore vada lì a insultare o dare consigli se è bravo il ragazzo viene fuori da solo Io ho avuto il privilegio di scrivere la tua autobiografia penso quindi gioco e mi sono sempre emozionato a rileggere questo passaggio siccome non lo ricordo a memoria me lo sono stampato ed è questo Piangevo senza ritegno è stato quello il momento preciso in cui la mia carriera ancora all'inizio ha svoltato prendendo la direzione giusta le possibilità erano due incazzarmi e smettere oppure incazzarmi e continuare a modo mio sono andato a prendermi il pallone qui quando raccontavi che un giorno non ce l'hai più fatta cioè non hai retto a questa rabbia, questa emozione, questa delusione del fatto che i tuoi compagni non ti passassero il pallone ecco, ci ricordi, ci racconti quel momento esatto perché tu lo definisci la svolta, una delle svolte della tua carriera Ma sì, perché era una partita, mi ricordo anche il campo era un campo interabattuta al centro San Filippo non mi ricordo la squadra e mi ricordo che era una partita dove cercavo di giocare come tutte le altre partite però vedevo che comunque i miei compagni non me la passavano ma apposta, non perché non mi vedevano allora a un certo punto mi sono sfogato da solo e sono andato a prendermi il pallone, piangendo anche però sono andato proprio a strappare la palla dai compagni e iniziare a giocare da solo quindi mi è capitato così poi non so se è successo a qualcun altro però era una partita dove magari ero anche un po' più nervoso o qualcosa perché magari erano successe altre situazioni simili in quel momento ho avuto questo tipo di reazione Eri negli allievi del Brescia? Sì, io non credo sia una cosa così normale tu dici forse è capitato a qualcuno, io non credo Magari può essere successo a qualcun altro però non è piacevole Dici anche poi da lì il pallone così a occhio te lo sei tenuto sempre tu vista la carriera adesso non riassumiamo tutta la carriera se no andiamo avanti fino a notte fonda però insomma sceglieremo dei flash nel corso di queste interviste intanto ti chiedo se in qualche modo sei andato oltre anche le tue di aspettative che è vero che eri il predestinato è vero che eri quello di cui parlavano tutti è vero che saresti diventato poi il maestro ma tu avresti pensato una carriera così grande, così enorme? Ma sì, me lo auguravo, non mi sono mai posto limiti sapevo di avere delle qualità, sapevo che potevo metterle in campo a servizio sempre della squadra e quindi non è che ho mai pensato sono contento se arrivo in Serie A no, volevo essere uno dei migliori volevo vincere un mondiale volevo vincere Champions League ho sempre puntato al massimo perché ero consapevole di me stesso delle mie capacità e quindi non è che avevo delle cose in testo per accontentarmi nella mia vita non mi sono mai contentato anche quando sono arrivato a raggiungere i successi più grandi ho sempre avuto la voglia di migliorarmi non mi bastava mai quello che avevo fatto e forse questa era una dota che mi ha portato a giocare così tanti anni ad alto livello ma è accontentarsi e cercare sempre di migliorarsi e come si allena il talento? quando il talento è così grande? con il lavoro con la voglia sempre di cercare qualcosa in più di avere sempre uno stimolo maggiore avere sempre un obiettivo davanti se raggiungi una cosa devi raggiungerne poi un'altra avere sempre comunque una cosa più grande davanti da poter avere nel mirino per poter dare sempre qualcosa in più adesso da allenatore della Sampdoria hai perso pochi giorni fa a Brescia quindi l'umore immagino non sia al top però Brescia è casa tua allora io ti cito due allenatori in particolare ti cito Lucescu che ti ha portato dagli allievi alla prima squadra e Mazzone cosa ti hanno lasciato e qual è la prima cosa che ti viene in mente di loro due? mi hanno lasciato tanto Lucescu è stato il primo a portarmi in prima squadra avevo 14 anni forse il primo ritiro l'ho fatto a 15 però qualche amichevole qualche partita l'ho fatta a 14 anni stravedeva per me anche quando mi allenavo con i grandi comunque aveva sempre un occhio di riguardo nei miei confronti mi portava a fare due o tre allenamenti al giorno per insegnarmi le cose e quindi verso lui ho grande rispetto e lo ringrazierò perché comunque portare un ragazzo di quell'età con i grandi non è da tutti e lui ci ha visto lungo a proposito del coraggio di cui parlavamo prima sì e Mazzone è stato colui che mi ha dato la mia carriera vedendomi in quella posizione quando ci ho parlato la prima volta lui mi ha detto che per lui ero il Falcao del Brescia perché in quella posizione avrei comunque potuto fare una carriera diversa e da lì poi è iniziato tutto dove giocavi prima? in che posizione? prima giocavo trequartista giocavo ogni tanto mezzala però comunque anche quando giocavo trequartista ero sempre portato a venire a prendere la palla dietro a cercare di iniziare il gioco volevo sempre stare al centro del gioco toccare tanti palloni ma da trequartista ogni tanto non arrivavano quindi ero costretto a andarmeli a cercare un po' dietro gli aneddoti su Mazzone sono infiniti ce n'è uno che ci puoi raccontare uno che riguarda te magari o se ti diceva qualcosa di particolare come ti trattava in modo diverso rispetto agli altri no no mi trattava come tutti gli altri mi diceva alla squadra che quando avevano la palla la priorità era il primo passaggio su di me quindi quella era una cosa che diceva a tutti diceva palla priorità pirlo quindi primo pallone dovevano giocare a me e poi dopo iniziava l'azione quindi avevo vent'anni quindi mi aveva dato comunque grande fiducia è vero che giocavi sotto età in primavera con sostanzialmente tanto è andato in prescrizione con la data di nascita falsificata sui documenti che davano all'arbitro? no giocavo con si hanno tentato di farmi giocare con tanti anni in meno quando c'era Battistini allenatore della primavera solo che non si poteva e quindi avevano rinunciato ma però ero riuscito a fare dei tornei estivi sempre con loro erano 4-5 anni in meno quanto eri interista da bambino? tanto quanto ti è passata quando sei andato all'Inter? ma no dopo quando inizi a giocare comunque da professionista non tifi più per la squadra con cui ti favi da bambino e pensi solo a fare il tuo lavoro ero contentissimo quando ho firmato per l'Inter dopo il Brescia e poi dopo man mano che andava avanti la mia carriera ho sempre tifato per le squadre dove giocavo ti chiedo quanto ti è passata quando sei stato all'Inter perché mi ricordo la stagione dei quattro allenatori Simoni, Lucescu Castellini, Oxson mi ricordo i rapporti così così con Tardelli poi è arrivato Lippi nel momento in cui è arrivato Lippi è durato una settimana quindi non sono andate benissimo le cose per te no no non sono andate benissimo speravo di fare un percorso diverso però è la vita mi ha dato comunque altre soddisfazioni quindi non rinnego niente ci racconti il pirlo bambino interista? ma tifosissimo dell'Inter mio papà mi portava a Viareggio in vacanza e lì ogni tanto l'Inter andava in ritiro estivo per fare delle amichevoli anche sono andato a trovarli in ritiro a Pisa da qualche parte a fare tutti gli autografi di Matteus tutti i tedeschi li avevo portati in camera poster poi lo scudetto dei record di trappattoni bandierone in giro per la città cose da tifoso da bambino sei andato a festeggiare? sì 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 ti sei mai chiesto se Lippi fosse rimasto all'Inter come sarebbe andata la tua carriera? non lo so non si può sapere il destino è stato scritto in modo diverso quindi star lì a pensare a cosa sarebbe stato non ha senso c'è una classifica di allenatori che ha voi ma ne ha avuti tanti Ancelotti lo stesso Lippi sono grandissimi si possono paragonare si può fare una classifica? no classifica no sono stati tutti importanti perché con quasi tutti comunque ho avuto grande soddisfazioni ho vinto con quasi tutti quindi è difficile metterli in una classifica però con Lippi ho vinto la cosa più importante che può succedere a un calciatore quindi deve stare assolutamente nei primi ma è vero che il giorno del mondiale c'è il pomeriggio hai dormito come un ghiro e poi hai giocato alla Playstation? no ho dormito no io non dormivo mai il pomeriggio ho giocato però dormire no difficilmente dormivo il pomeriggio prima delle partite stavo in camera o giocavo comunque stavo sereno però dormire mai cioè c'era gente che impazziva e tu giocavi alla Playstation in quel momento? ma era anche un modo per perdere un po' di tempo togliere un po' di pensieri comunque giocare aiuta a rilassarsi a non pensare troppo a quello che doveva succedere alla fine ho portato bene beh direi di sì e che squadra prendevi alla Playstation? no giocavamo Ionesta Barcellona contro Barcellona ah sì eh? armi pari quindi occhio vinceva il Barcellona così così per non sbagliare ci sono delle parentesi nella vita di un calciatore che restano tali la tua si chiama Regina non mi è sembrata tanto una parentesi quanto sei stato felice in quel periodo breve però intenso direi della Regina e direi di giocare sono stato molto felice ho fatto dieci mesi bellissimi perché dopo il primo anno di Inter avevo voglia comunque di andare a giocare con continuità e quindi ho ritenuto che Reggio fosse una piazza perfetta per poter giocare per dimostrare il mio valore volevo comunque giocare in Serie A la Regina era la sua prima esperienza quindi mi sembrava una scelta giusta con entusiasmo con voglia di far bene con tanti giovani quindi poi alla fine si è ritenuta una scelta azzeccata ricordi anche chi era l'allenatore? Colomba e come ti sei trovato con lui? benissimo al Milan hai vinto sostanzialmente tutto quello che c'era da vincere hai conosciuto alcuni personaggi da leggenda allora intanto ti chiedo qual è stata la vittoria delle vittorie nel tuo periodo milanista la prima Champions League la prima Champions League penso sia stata la più bella perché è la prima pochi di noi avevano fatto una finale di Champions in quel periodo a parte Maldini e Costa Curta gli altri e Seedorf gli altri erano alla prima esperienza quindi arrivare a giocare una Champions League dopo aver fatto una semifinale con l'Inter era la cosa che aspettavamo dall'inizio dell'anno anche perché il percorso era stato lungo da preliminare quindi fare questa cavalcata e arrivarti a giocare a finale con l'Iventus era ciliegina sulla torta e vincerla è stato il massimo forse è stata la vittoria più bella invece l'aneddoto più divertente che riguarda un compagno di squadra ma ancora ma ce ne sono dimmene a me viene in mente Gattuso ma sì Gattuso era uno che non è mai raccontato ne succedeva uno al giorno a Milanelli infatti non mi vengono in mente perché era troppo scontato tutto il giorno avere l'Irino era impossibile non metterlo in mezzo era proprio era proprio andare lì e sapevi che dovevi farlo incazzare quindi cioè sparavi sulla Croce Rossa praticamente era il nostro obiettivo andare lì e farlo incazzare quindi ogni giorno era uguale la giriamola così lo scherzo più bastardo che hai fatto perché eri famoso molto famoso per gli scherzi ma anche lì non mi vengono in mente erano cose che mi venivano al momento non ci pensavo e quindi sempre con Rino o con altri era il nostro modo di vivere perché ci piaceva stare insieme ci piaceva vivere a Milanello tutto il giorno arriviamo la mattina andiamo via la sera che stavamo veramente bene insieme e quindi capitavano anche di fare queste cose le vittorie nascevano proprio per quello perché quasi stavate male se non vi vedevate sì sì a noi piaceva stare anche in ritiro anche quando magari le cose non andavano bene che ci dicevano che ci portavano in ritiro siamo stati a Malta siamo stati ad altre parti e noi eravamo quasi contenti ad andare perché alla fine ci volevamo bene sapevamo che comunque ci divertivamo e lavoravamo bene e poi alla fine le vittorie hanno portato anche a questo hai mai rivisto un ambiente del genere dopo quando quando hai cambiato squadra hai smesso sei stato allenatore cioè da osservatore esterno hai visto un ambiente simile a quello un po' alla Juve quando sono andato da calciatore che anche lì c'era un bel gruppo tanti italiani comunque legati alla squadra un bello spirito però sono stato molti meno anni sono stato 4 anni mentre al Milan sono stato 10 anni quindi abbiamo avuto un modo di vivere più esperienze però il clima simile adesso della Juve ovviamente parleremo ti faccio due ultime domande sul Milan una è questa hai mai rivisto la finale di Istanbul? Sprazi cioè non si riesce o non serve? ormai no non serve non si riesce penso sia stato forse il più bel primo tempo che abbiamo giocato in tanti anni però non ho mai avuto la forza di rivederlo anche perché c'avevo già in testa tutta la partita quindi rivederlo sarebbe stato veramente difficile ogni tanto ho rivisto i gol presi e fatti l'occasione di Sheva però tutta la partita non ho mai più rivisto ma non passerà mai quella cosa? cioè la ferita non si chiuderà mai? ma è difficile perché comunque era una finale di Champions che vinci 3-0 e vederla sfumare così ti fa male poi sì hai vinto quella dopo però non è che rimargina la sconfitta precedente sì hai vinto però potevi vincerne tre invece che due tu sei stato seriamente intenzionato a smettere dopo quella finale? sì ci pensi pensi a tante cose comunque sei distrutto dopo la partita nei giorni successivi pensi a tante cose smettere in quel momento lo pensi poi dopo sei innamorato di quello che fai e cerchi di andare avanti perché poi il calcio ti dà altre opportunità e noi le abbiamo avute però in quel momento sei veramente distrutto invece ti è mai passata la delusione per come è finita l'avventura al Milan perché insomma in quel momento forse poteva finire meglio so c'era Allegri e ti voleva cambiare ruolo non ti sei più sentito importante come ti eri sentito fino a quel momento no mi è dispiaciuto un sacco perché pensavo di poter stare lì altri anni di essere utile ancora per qualche anno poi dopo comunque le decisioni si prendono insieme quando mi sono sentito non più un giocatore importante da parte loro non ci ho pensato due volte ad andare da un'altra parte quindi quando loro mi hanno parlato che comunque c'erano prospettive diverse io ho preso e sono andato da un'altra parte perché essere un peso per qualcuno non lo sono mai voluto essere sia al Milan che poi alla Juve ho deciso sempre io poi di di cambiare e quindi al Milan prima alla Juve dopo quando avevo comunque ancora un anno di contratto ho voluto andare poi in America a fare un'altra esperienza perché volevo chiudere bene non volevo essere un peso per nessuno quindi è stato bene così il discorso quello era stato esattamente quando sei andato via dal Milan quello che ti hanno fatto cioè come si spiega ad Andrea Pirlo che rischia di diventare un peso per il Milan con cui ha vinto tutto di cui è stato un faro di cui è stato un titolare indiscusso no in quel periodo c'era la politica che sopra i 30 anni facevano un anno di contratto c'erano Benesta Ambrosini Gattuso Siero comunque avevano tre due un anno in più di me e avevamo parlato di quella cosa io ero più giovane avevo appena fatto 30 anni quindi chiedevo un contratto un po' più lungo e quindi non ci siamo trovati e quindi poi ci siamo ci siamo separati cosa è stata per te la Juventus è stata una parte importante della mia carriera perché è stata una rivincita volevo fare una esperienza diversa dopo il Milan avevo una grande voglia di dimostrare a tutti comunque che ero ancora un giocatore forte importante che potevo giocare ancora per qualche anno ad alto livello e ho avuto l'opportunità di dimostrare la Juventus vincendo poi quattro campionati facendo una finale Champions League quindi avevo fatto la scelta giusta non eri del tutto finito quindi diciamo così tu sei arrivato alla Juventus e hai conosciuto Antonio Conte primo ritiro a Bardonecchia se non sbaglio ti guardi e dici ragazzi qui è ora di finirla di fare schifo è iniziata così l'avventura a Juventus con quel discorso aveva iniziato il discorso facendoci capire che la Juventus era arrivata due volte settima e quindi ora bisogna di fare qualcos'altro per il nome della storia della Juventus perché poi c'era lo stadio nuovo l'inaugurazione dello stadio nuovo quindi c'erano tutti i presupposti per fare qualcosa di importante e da lì dal ritiro di Bardonecchia è iniziata questa cavalcata che ci ha portato a vincere primo campionato senza mai perdere e poi quelli successivi mi definisci Antonio Conte a me piace tantissimo questo non frega niente a nessuno però voglio dire a me è un allenatore che piace tantissimo anche una persona che mi piace molto me lo definisci? no no anche a me ho avuto un bellissimo rapporto con lui tuttora ci sentiamo ci vediamo ci frequentiamo quindi è stato forse il primo allenatore che quando comunque mi allenava mi spiegava certe cose che adesso che faccio l'allenatore le riporto sul campo perché è stato il primo a farmi pensare che comunque certe situazioni andavano fatte in un modo certe in un altro quindi in quel periodo iniziavo già a pensare un po' da allenatore dicevo che magari non l'avrei mai fatto però lì quando lui mi faceva notare certe cose pensavo quasi da allenatore quindi è stato un grande un grande maestro di campo di calcio e quindi mi sono trovato veramente bene il primo esempio da seguire del Pirlo allenatore è lui quindi oggi? sì su certe situazioni non tattiche però magari nel modo di vedere l'allenamento nel modo di gestire certe cose sì anche quando ci faceva i video che ci spiegava comunque magari in altre parti non li vedevi magari lui ti spiegava dei dettagli che erano molto utili cosa aveva anzi cosa ha di speciale lui dovessi scegliere una cosa sola è un trascinatore ti trasmette tanto e quindi ti porta a dare il massimo nella tua vita ci sono stati dei bivi che poi alla fine non hai preso però raccontiamone un paio anno di Grazia 2006 Real Madrid bussa anzi poi va anche oltre praticamente un contratto di 5 anni già firmato ci racconti quel momento e poi ci racconti perché non sei andato effettivamente a Real Madrid con un contratto già firmato era finito il mondiale c'era tutto il casino di Calciopoli c'era questa possibilità che il Milan andasse in Serie B per tutta una serie di casini che erano successi e Cappello era andato al Real Madrid ho parlato con lui con i dirigenti e ho trovato un accordo poi quando dovevo presentarmi il giorno del ritiro del Milan che hanno detto che comunque ci riscrivivano in Serie A con una penalizzazione che avremmo dovuto ripartire però dai preliminari ho tentennato un po' perché io ormai ho deciso di andare lì avresti giocato con Emerson se non sbaglio il centrocampo e poi tornando a Milanello è arrivato Galliani con il mio procuratore e abbiamo deciso di prolungare l'avventura Galliani con il tuo procuratore con una valigetta però da cui ha tirato fuori un foglio sì sì no ha tirato fuori un foglio e ci ha lasciato il contratto e ci ha detto di mettere noi le cifre e poi dopo qualche giorno gli abbiamo ridato l'avete messo a voi cioè siete stati buoni o avete esagerato siamo stati buoni relativamente buoni diciamo così e poi invece c'è stato un trofeo gamper a Barcellona quello in cui tutti guardavano Zlatan Ibrahimović Barcellona contro Milan perché tutta la squadra tutta la società era lì per prendersi Zlatan Ibrahimović per portarlo a Milanello credo che tutti si siano persi un passaggio però di quella notte Pep Guardiola che insomma dice vieni un attimo nel mio ufficio che ti devo dire una cosa e? No sono andato nel suo ufficio e c'era questa possibilità che Ibrahimović poteva venire al Milan e lui mi ha chiesto se aveva la disponibilità di andare lì da lui al Barcellona abbiamo parlato un po' lì nel suo ufficio e poi dopo Ibrahimović è venuto e io sono rimasto anch'io ma cosa ti ha detto in particolare? No che sarebbe piaciuto avermi lì a giocare con un centrocampo con quei giocatori comunque era ero un giocatore che gli era sempre piaciuto ci conoscevamo perché lui anche lui era stato a Brescia abbiamo giocato insieme comunque c'eravamo sfiorati e però essere chiamato nel suo ufficio di essere cercato un allenatore come Guardiola era motivo di grande orgoglio poi non si è fatto niente pensa che Nesta avrebbe potuto usarti alla Playstation quando facevate Barcellona contro Barcellona che centrocampo sarebbe stato? mi fa quasi paura dirlo Ciavin e Stapirlo? sì abbastanza tecnico poi c'era Busquets sì no sarebbe stata una bella esperienza però alla fine ero al Milan in mezzo a tanti altri campioni era andata bene così avevi detto stratosferico incredibile tu hai detto abbastanza tecnico sì era da vedere sì ammazzo per pagare il biglietto solo per vedere voi tre e invece prima hai parlato i Lippi abbiamo sfiorato l'argomento mondiale cosa ti ricordi del primo rigore? come è nata la scelta di te sul dischetto per primo? ho scelto i Lippi ho scelto me come primo perché comunque secondo lui i migliori dovevano tirare i primi rigori e niente mi hai detto tu sei il primo e sono andato ho tirato non è che c'è stato tanto da discutere le racconti proprio come se fossero cose così che succedono tutti i giorni sì ho tirato un rigore era il primo abbiamo vinto il mondiale certo che c'era grande tensione perché il primo rigore mondiale con la curva della Francia dietro non è una passeggiata infatti poi quando ho fatto il gol è stata una bella liberazione però quando mi hai detto che tirare il primo non c'è stato nessun modo di chiedere perché io il primo perché il secondo sono andato ho tirato nel mentre c'era qualcuno che si nascondeva dietro la panchina qualcuno sì c'è stato anche solo un secondo in cui hai pensato faccio il cucchiaio come ho fatto all'Europeo contro l'Inghilterra a Joart no lì no lì ho pensato subito di tirarlo centrale perché ho pensato primo rigore il portiere non rimane fermo da qualche parte si butta quindi meglio tirarlo centrale essendo il primo quindi avevo più possibilità per poter fare questo tipo di tiro invece il cucchiaio all'Europeo come era nato? è nato nella rincorsa ho visto che comunque nei tiri precedenti lui si muoveva tanto e allora mentre prendevo la rincorsa ho deciso di fare questo era per massimizzare il risultato quindi non per fare spettacoli stavamo perdendo quindi da lì poi c'è stata una spinta in più forse per ribaltare la situazione era per massimizzare in quel momento la resa c'era un modo per segnare quasi sicuramente non era per dire moglie faccio un cucchiaio come ha detto Francesco comunque lo fai per il risultato finale che è il gol non è che lo fai per essere bello lo trovavo un modo sicuro per poter fare gol a proposito di nazionale cos'è la stanza 205 a Coverciano perché è stata una stanza mitia cioè tu con Nesta poi con De Rossi cosa succedeva in questa stanza sono stati tanti anni passati a Coverciano che comunque era una seconda casa ho iniziato tutte le trafili dall'under 15 fino alla nazionale maggiore quindi ho passato tanto in quel centro e ho sempre avuto quella stanza lì la prima ma sulla sinistra del secondo piano solite cose poi da ritiro preparazioni mondiali europei tante partite era famosa come la stanza dei casinisti però all'esterno non so se lo sai però la sera poi dobbiamo chiuderla se no la gente entrava ma De Rossi invece che abbiamo parlato di Alessandro Nesta di De Rossi cosa ci racconti? ma anche lui era molto simile a Nesta come personaggio romano anche lui forse mi trovo bene per questo comunque simpatici semplici perché alla fine erano due giocatori e persone semplici e alla fine abbiamo avuto un bellissimo rapporto è passata un po' alla storia la tua frase non farò mai l'allenatore poi ci hai spiegato poco fa che Conte in qualche modo ti ha fatto ti ha fatto cambiare idea non volontariamente ma con i gesti con il suo modo di fare allora io ti chiedo invece se è stato un errore in qualche modo allenare la Juventus così presto ma no un errore no comunque quando ti danno questa opportunità vorrei vedere chi è che dice di no a questa grande possibilità di allenare la Juventus non è che capita a tutti di allenare una squadra come la Juve quindi appena me l'hanno chiesto non ho battuto ciglio ho detto ho dato la mia disponibilità tu eri arrivato come allenatore dell'Under 23 quanto sei stato? a zero giorni credo che non ho mai iniziato e mi hanno chiamato che ho cambiato idea e c'era questa questa possibilità tu in quella stagione hai vinto due trofei io personalmente credo che si ricordino poco quando si parla si parla di te e credo anche che sia un errore cioè non viene un po' sottovalutato quel tuo anno da allenatore della Juventus dal mondo esterno? ma no ho fatto quello che dovevo fare ho fatto quello che mi ha chiesto la società comunque quello di centrare il quarto posto di vincere i trofei che c'erano a disposizione avremmo potuto far meglio in campionato avremmo potuto far meglio in champion però era un percorso con una squadra nuova giovane che avrebbe avuto un futuro rosio davanti poi le cose sono cambiate però non ho sicuramente rimorsi o cose a cui guardare indietro sono soddisfatto del lavoro che ho fatto le strade poi si sono divise però non è cambiato niente allenare Cristiano Ronaldo è stato molto facile o molto difficile? no no è stato bello quando alleni questi campioni comunque vedi perché sono arrivati ad essere i numeri uno dall'atteggiamento dalla voglia che hanno di raggiungere gli obiettivi i record come si allenano come curano i particolari quindi poi capisci perché poi vincono i palloni d'oro lui era uno che poteva ancora insegnare come si gioca forse come ci si approccia alla vita da calciatore lui è un professionista esemplare perfetto in tutto dal mangiare al recupero a qualsiasi cosa che un ragazzo vede da giovane e capisce perché è arrivato a giocare a questi livelli tu e Andrea Agnelli vi siete più sentiti? sì sì ci siamo rivisti anche negli anni successivi però c'è sempre stato un buon rapporto poi il calcio è così quando quando finisce il rapporto di lavoro comunque rimane rimane amicizia cioè il rapporto umano è rimasto sì sì diciamo così Juventus poi la parentesi in Turchia e adesso la Sampdoria cosa ha di speciale con la metà di Genova? è una piazza fantastica una città che vive di calcio sia da una parte che dall'altra bisognerebbe riportarla a giocare al derby però stiamo iniziando abbiamo iniziato un lavoro lungo con una società che che stava fallendo e quindi ci vorrà tempo per riportarla a dove compete però sono felice mi trovo benissimo e spero di poter raggiungere gli obiettivi mi hai raccontato all'inizio di questa intervista che da bambino già sapevi quale fosse il sogno cioè diventare uno dei più grandi vincere vincere tutto e ci sei riuscito da allenatore c'è un sogno sul lungo periodo è uguale quello di poter arrivare a vincere quello che si può vincere per un allenatore poi ci riuscirà o no però l'obiettivo deve essere quello devi puntare al massimo poi arriverai non lo so però qualcosa devi fare sei stato totalmente sincero fino a questo momento ti chiedo di esserlo anche nella risposta a quest'ultima domanda dell'intervista quanto sei stato realmente vicino alla panchina del Milan quando Maldini era dirigente quindi poco tempo fa zero grazie zero va bene fino alla penultima forse eri stato totalmente sincero grazie a te è sempre un piacere grazie per la disponibilità per averci raccontato tante cose noi ci vediamo e ci sentiamo il prossimo mercoledì grazie Andrea Pirlo grazie a te Storie di Serie A su Radio Serie A con RDS